Sono stati momenti di tensione, quelli vissuti nella mattinata di venerdì 23 aprile in via Tertulliano a Milano, quando poco dopo le 8 un uomo straniero di nazionalità somala ha aggredito, prendendola per i capelli, una bambina di 6 anni mentre stava andando a scuola con il padre, anche lui finito a terra, spinto dall'aggressore dopo che aveva provato di intervenire per liberare la figlia dalla presa dello sconosciuto. L'aggressione alla bambina è però stato l'epilogo di un'esplosione di episodi di rabbia, iniziati già davanti alla sede di pane quotidiano, la Ollus, che si occupa di dare da mangiare a persone in difficoltà in via Toscana. L'uomo, mentre era in fila per la distribuzione di generi alimentari, ha avuto una lite con altre persone in fila e ha dato un'escandescenza, minacciandoli con un coltello da cucina. Prima che una volante della polizia riuscisse ad arrivare sul posto, il somalo si è allontanato, salendo su un autobus della linea 91. All'altezza di via Ripamonti, il bus è stato fermato, ma l'uomo è fuggito a piedi, dandosi ad una lunga corsa lungo la circonvallazione di via Leumbria, quindi ha proseguito in via Tertulliano, dove è intercettato la bambina di sei anni, che si recava a scuola con il padre. Il somalo, dopo l'aggressione, ha proseguito la sua fuga, ma è stato poco dopo bloccato dagli agenti.